Grazie Giorgia. E noi adesso parliamo della crisi in Ucraina tra tensioni e appelli alla de-escalation. In diretta il corrispondente da New York, Claudio Pagliara. Sì, tensione sempre altissima ai confini tra la Russia e l'Ucraina. Continua l'ammassamento di truppe, di uomini e mezzi militari da parte della Russia e Joe Biden, il presidente americano, rompe gli indugi. Ieri sera annuncia che invierà molto presto soldati in Europa dell'Est, ovviamente non in Ucraina, nei paesi dell'Europa dell'Est della Nato. Non molti, aggiunge Biden, proprio perché si vuole mantenere assolutamente aperta la strada diplomatica. Ieri del resto l'ha detto chiaramente anche il vertice del Pentagono in conferenza stampa. Ha detto un conflitto non è inevitabile, anche se chiaramente la Russia ha le capacità ora di scatenarlo. E scende in campo anche il premier britannico Johnson con un'iniziativa personale. Fa sapere che nei prossimi giorni telefonerà al presidente russo Putin e compierà nella regione una visita. Insomma, diplomazia sempre al lavoro. Linea allo studio. E gli Stati Uniti congelano gli aiuti. E gli Stati Uniti congelano gli aiuti.